Si sono svolte ieri le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania e del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Al Consiglio regionale tutti eletti al primo turno i professionisti della lista giornalisti per la Campania, capeggiata dal presidente uscente Ottavio Lucarelli. È andata bene innanzitutto per la straordinaria partecipazione che c'è stata. Sono arrivati i giornalisti da tutta la Campania, nel seggio di Napoli, nel seggio di Salerno dove si votava per la prima volta. Sono arrivati anche i colleghi da altre regioni, i colleghi campani che lavorano a Roma, a Bologna, a Firenze, a Milano. Una partecipazione straordinaria. Tutti eletti al primo turno. La nostra lista dei giornalisti per la Campania, professionisti e pubblicisti, ha ottenuto oltre il 90% delle preferenze. Tutti eletti, quindi è già composto il Consiglio dell'Ordine regionale, eletti anche i revisori dei conti e abbiamo anche già eletti i consiglieri nazionali. Al Consiglio nazionale sono stati eletti Carlo Verna e Antonio Sasso, già consiglieri nazionali uscenti. Per i pubblicisti, al Consiglio regionale, Mimmo Falco, Salvatore Campitiello, Massimiliano Musto, revisore dei conti, Francesco Ferraro. Al Consiglio nazionale è stato eletto Alessandro Sanzoni. Entro il mese di ottobre, Consiglio regionale e Consiglio nazionale si riuniranno per eleggere le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.